La via della conoscenza attraverso Attilio Masiero vocedellacuiete.veglianochiocciolagmail.com Soggetto Proviamo allora a vedere che cosa consente di fare un passo avanti nel farvi riflettere sulle esperienze di chi sprofonda dentro la via della conoscenza. E sto parlando del cammino in questo caso e non tanto dei pilastri concettuali importanti della via della conoscenza. Quindi stiamo parlando in questo momento di ciò che è possibile aggiungere, tra virgolette, togliendo rispetto alla via della conoscenza attraverso una pratica che metta in luce la radicalizzazione ulteriore della via della conoscenza. Da questo punto in avanti io non farò altro che proporvi due aspetti contemporaneamente presenti ciò che praticate nel vostro quotidiano e dall'altra parte ciò che, attraverso particolari angoli di lettura io posso proporvi come concettualizzazione ulteriore che vi sradica e che vi fa capire quanto ancora voi pur accettando alcuni principi della via della conoscenza nella vostra realtà concreta siate continuamente soggetti alla riappropriazione di ciò che noi diciamo al travisamento e all'eriggere sempre obiettivi obiettivi, obiettivi che cosa possiamo aggiungere noi a tutto quello che abbiamo detto rispetto ad un fatto che voi sperimentate sovente se guardate la vostra vita quotidiana e cioè che cosa possiamo aggiungere di fronte al fatto che nella vostra vita quotidiana voi quasi mai vi osservate nel momento in cui parlate è la via della conoscenza cos'è in fondo se non offrirvi parole che esprimono concetti eppure nella vostra esperienza quotidiana quasi mai torno a ripetere vi osservate nel momento in cui parlate se vi osservaste vedreste che ciò che dite il linguaggio che usate diventano veramente l'emblema della sottile azione della mente che indipendentemente dal punto in cui è arrivata nella via della conoscenza sempre si riafferma almeno fino a quando non sta attenta anche al linguaggio che quell'uomo usa in quel momento